L'orchestra sinfonica Rossini e il coro del Teatro della Fortuna, Mezio Agostini, sposano Vitruvio. La tradizionale stagione concertistica estiva quest'anno si declina con il concetto vitruviano di armonia. Si tratta di un pensiero presente in tutta la storia dell'arte, ma che ora verrà proposto anche nella musica con un messaggio in chiave moderna. Infatti verrà portato all'attualità con Vitruvio 3.0 Armonie sotto le stelle, un'iniziativa alla quale collabora il Centro Studi Vitruviani. Il programma prenderà il via venerdì 8 luglio all'ex chiesa di San Francesco. In questa serata vorremmo ripercorrere nei secoli della storia della musica autori e gruppi che hanno composto seguendo un criterio anche numerico, perché comunque l'armonia in questo caso è l'armonia dei numeri. Il 13, mercoledì, ci sarà un concerto incentrato sul coro del Teatro della Fortuna Mezio Agostini, una sorta di oratorio di Vivaldi, Judita Triumphans, in cui appunto il coro avrà il proprio spazio. E qui vedremo come la guerra oriente-occidente, fatto storico che poi ispirò Vivaldi per questa composizione, sia un po' la disarmonia, per cui il dualismo tra armonia e disarmonia. Poi termineremo con un concerto eclatante, direi, in Piazza 20 Settembre, il 17, domenica, con omaggio a John Williams, quello che si può considerare uno dei più grandi compositori di musica da film della storia, e di lui faremo una suite su Star Wars e poi lo stesso dell'esecuzione delle colonne sonore di Indiana Jones, Superman e T. Il direttore di questa serata sarà Roberto Molinelli e sarà impegnato all'Orchestra Sinfonica Rossini con il grande organico Oltre 50 Elementi. Una bellissima nuova iniziativa identitaria della nostra città che speriamo abbia lunga vita.